ciao a tutti amici sono il vostro simx fruit e saroto siamo ritornati qui nel dodicesimo episodio sul livello slippery climb e ragazzi per questo dodicesimo appuntamento madonna quanti gameplay sto facendo ultimamente di crash bandico ma c'è ragà ma crash è uno dei livelli o mio dio cos'è sta robetta allora prendiamo queste due casse è una vita in più grazie 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 allora fin qua mai visto sto livello però in qua sembra facile sembra comunque vanno assai veloci sti sti cose vanno assai veloce di appelo il cazzo fa la girapolta vedi è infatti ok ragà ma io sto andando d'intuito e si max hai anche un bel intuito perché sembra bello stu intuito raga ma un checkpoint dov'è cioè oddio ok raga vita presa ok tutto molto difficile ragazzi ma è interessante dai si può fare è fattibile come livello ma se qui non mi da un checkpoint smadonna perché dai e se voglio questi barboni mi incazzo in una maniera indescrivibile ok ragazzi dai e dai e così raga dai e dai e raga col pollicione in su dai e dovete iscrivervi eh non ve lo dico non ogni video ragazzi perché suppongo che l'ho immaginiate ma do ma do che fail stavo per fare ho fatto una provata della madonna aspetta le scale che spawnano si max cavolo ho capito che hai fretta perché vuoi portare un secondo livello nel dodicesimo appuntamento ho capito che hai fretta per voler fare anche il secondo livello del dodicesimo episodio perché nell'undicesimo ragazzi per chi non l'avesse visto andatevelo a vedere perché ho perso quasi 20 minuti per fare ho fatto un'ora di registrazione per un video di 20 minuti quindi no 10 minuti quanto per un livello solo cioè raga quello è un qualcosa di smadonnante quello del livello precedente veramente è stato è stato smadonnante parecchio ma smadonnante parecchio vai C'è, 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 c'è Non ho parole, c'è, c'è No raga, veramente non ho parole Raga, non ho parole Raga, non ho parole Ok Che poi raga, ma Sto livello Secondo me non ci sono i checkpoint Secondo me no raga, cioè Scrivetemi nei commenti Se questo livello ha un checkpoint Ma anche perché lo dovrò scoprire Ma mi sa di no, perché qua Perché qua Prima l'ho fatto tutto, la prima D'intuito, adesso non lo faccio più Bene, bene, simex Bene, bene, bene Bene, molto bene, cioè molto male in realtà Però Non ho fatto a farlo prima, cristo Come cazzo ho fatto Pieghe cristo Ma quanto sta sempre lì, cazzo Ma quanto sto sclerò Stasera Sì, è sera, simex Vedrai Non puoi dire oggi Dici sempre oggi Poi alla fine Ok Mele Le mele Dai che Quando parlo così Porto una fortuna Una cazzo Sì, è santa Su di ciò Su di ciò Ma fa culo No, non porta fortuna Dio Dio è bello Madò, se non ero in diretta con voi adesso ragazzi Madonna, santa Le madonne che volavano Madò Una madonna di qua Una madonna di là Sì, una vita Alle 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 Ego 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 Vedi, porta fortuna Ego Ego A pelo ragazzi Riesco a quella parte Sempre a pelo ci riesco Ok Simax cerca di non far cazzare No, alla prossima Ok Ma raga Continuiamo a cantare Ego Ego Come si chiamava? William O non ricordo Che fa le canzoni francese Non mi ricordo raga Ego 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 Guarda lì che si porta fortuna Minchia Anche se i francesi in realtà Mi stanno sempre su William Eppure li nomino in ogni video No, scherzo In ogni video No però Li nomino Ragazzi Non mi danno un Cristo di checkpoint Sclero Cazzo Cazzo Ok ci sono riuscito Dai Sti barboni di merda Mi fanno cazzare Barboni No Primo si mai Siamo prima di far l'altro così E ti portavo una yella Dalla Madò 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 qui pensavo di aver filato male Prendiamo un po' di mele Le mele No scherzo Dai non di più Questa volta aspetto Sti cazzi Ma guarda dove sono caduto Ma guardate che sfigo No No raga No così però No filare ste cose Quando lo faccio A capodanno Io Crash Bandicoat 2 Cortex Powerback Stripeback Come cazzo si chiama Così non lo farò mai Il Warped Se non riesco a finire il primo Cazzo Raga Eh guarda Guarda Oh sempre all'ultimo Come sai che è proprio la parte che è così raga Cioè raga ma secondo me sto gioco non ha Secondo me sto livello non ha Non ha checkpoint Cioè È metà È più della metà secondo me sono eh Cioè Forse no Forse sì Non lo so Non l'ho mai fatto Quindi non posso Appunto saperlo Dai ye simo Dai ye simex Dai Dai ye Dai ye che i tuoi tefanti Fanno per te anche se La maggior parte ti preferiscono bestemmiare Dove sono morto? No vabbè c'era la spunta di sopra Raga ci vediamo a un buon punto Speriamo di vederci in un buon punto Eccoci qui ragazzi siamo ripresi Vediamo se riusciamo a superare quella partaccia Come dire quella partaccia Andiamo Mi taglio un po' di pezzettini Raga perché Raga checkpoint Oddio non ci credo Oddio raga Non ci credo Finalmente mi sono risposto da solo Il checkpoint esiste Ok Veno male Veno male Si vede l'hanno messo un po' più distante Rispetto agli altri Ok raga Dai Olè Oh 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 Olè Piamola me Piamola angulo Oh 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 rapido posso sudare normale l'inverno arriva perché qui troppo da meno male l'estate è passata sennò qui sudare che davo ho preferito romperla così perché scommettevo mi saltava c'è point perché se non mi saltava avevo paura mi saltasse di sotto no quindi ho preferito e niente niente non importa no ma guarda mi sa che devi fare a rischio ah no dai ok è fattibile no raga ma quanto è difficile sto livello raga d'ora in avanti mi sa che un episodio dura un livello solo odio il culo e mi sa che un episodio raga dura un livello solo se si fanno sempre così difficili o cazzo raga ma è difficilissimo raga ma è difficilissimo no raga mamma mia no no raga alla prossima alla prossima alla prossima dai ma è una specie anche di troll un pochettino ok portami su grazie grazie gentilissimo che cazzo è questo muori merda però l'ho pigiato però no non mi di da lì non mi di da lì non mi di da lì da lì ok raga non so se in questa parte ci sono abbastanza casse da rompere perché ho 72 mele e quindi mele sogno l'avete capita battuta mele mele sogno no raga a parte battute di merda vediamo se riusciamo a completare il livello entro stasera magari oh oh oddio 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 non fare salto omega qui non serve perché l'ho chiamato salto omega poi vabbè già meglio di una vita eh vabbè simo sei stupido simo sei stupido vabbè adesso abbastanza contento così riprendo la cioè che poi ragazzi ogni volta riprendo il checkpoint da qui mi regala una mela perché una poi a questo punto me la dare cioè nel senso oddio insomma meglio di nulla però non capisco forse perché ho rotto la cassa sopra non so ah merda quando scivola dai coso mi sa raga che non salta eh perché ho bello e premuto anche la seconda volta x per saltare mentre facevo lo scivolo del coso mi sa che l'x non la falli ok qui ci è stata la vita il coso il faccione finalmente l'ho ripreso oh una cassa dai una mela wow no non l'ho visto raga madò mi direte stupido che sei eh raga ma che ci posso fare non l'avevo visto vi giuro dio santo se non l'avevo visto dai che raga ci la facciamo dai voglio prendere il posto di gabibu eh anche se non ci riesco cazzo 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 mettoci alle capra madò madò raga madò certe volte porta fortuna eh sia chiaro ho usato questa parola ho detto alcune volte ho usato questa parola oh cazzo fa siamo un goloide crash ho una vita che tu sia benedetta vita eh no merdone stavolta non ci riesco butta merda madonna sti barboni ma ancora vabbè oh tre su tre raga bonus e il buda ci accompagnerà oh merda che cazzo è questa roba che cazzo eh cos'è vabbè cerchiamo di capire come funziona questo livello bonus cerchiamo di capirlo dai cos'è no avevo paura esplodesse quelle cazzo accanto a me allora è difficilino raga difficilino poi la prima volta li faccio quindi è normale li faccia tante così perdite non è così però raga siamo solo al bonus ve lo dico siamo solo al bonus figuriamoci il livello normale come prosegue ma è difficile cristo cristo minchia se è difficile cazzo la merda ho lasciato una cazza raga vabbè non importa l'importante ormai raga l'ho fatto non me ne so accorto me ne so accorto più me ne so accorto tardi raga me ne so a torto accorto tardi poi raga vabbè sti gazzi una cazza ho lasciato non è che ne ho lasciato ai 20 quindi ho una vita buona sempre buona ma vaffaculo cristo lo sapevo di cadere o quanto lo sapevo ma scusa avevo 9 vite come ho fatto a 13 vabbè zitti raga zitti zitti ma lo gonfiamo troppo prima come ho perso la vita prima raga è veramente assurda però poi non ho capito come fa a scendere ah così brutto stronzo di uccello del mercoledì guardalo raga ma quando finisce sto livello ah ok ora sto pezzo di merda raga madonna mia livello finito clip con la roba là quindi raga adesso vediamo se riusciamo a fare un altro livello e no ragazzi non ci riusciamo questo video è venuto all'incirca 14 minuti quindi vi lascio qui oggi il dodicesimo appuntamento è finito qua ci vediamo al prossimo video del tredicesimo appuntamento quindi raga spolliciate come dei dannati ci vediamo ad un prossimo video bella rega a un prossimo video